Sì, noi eravamo partiti da una base di 20 milioni di euro dopo i 5 di due anni precedenti, in realtà li abbiamo raddoppiati pressoché perché quest'ulteriore finanziamento di quasi 9 milioni di euro garantisce altri 39 interventi, quindi arriviamo quasi a 140 interventi su impianti sportivi di altrettanti comuni. Una dotazione di impiantistica sportiva che per fortuna in questa regione è talmente alta che permette di avere una partecipazione all'attività motoria molto più alta della media nazionale e oltre a questo il tema di presentare già una prima filiera di grandi manifestazioni di livello nazionale o internazionale e credo che anche qui dia l'impegno, il senso di un impegno per garantire da un lato ricettività turistica che comunque porta indotto in questa crescita straordinaria del turismo in questa regione negli ultimi anni e dall'altra permette anche per chi non viene l'opportunità attraverso le dirette televisive, le differite o meno, ma il ruolo dei media e dei social media di avere un'opportunità di marketing, di promozione del territorio eccetera che è straordinaria. Grazie.